From Software con Elden Ring ha tracciato una nuova strada, che con molta probabilità seguirà anche con i prossimi titoli. Ed è molto difficile che un nuovo gioco della serie Dark Souls possa tornare ai principi dei vecchi Souls. E se siete affamati di giochi Souls vecchio stampo come lo sono io, ecco che ci viene incontro la community dei modder. E infatti è stata rilasciata una mod gigantesca con tre aree enormi e nuovi NPC che vanno ad ampliare l'esperienza di Dark Souls 3. Infatti si tratta di una mod di Dark Souls 3. Gli asset, i moveset sono presi da NPC e boss che abbiamo già visto in Sekiro, Bloodborne e Elden Ring. Il video sarà diviso in sezioni, quindi se vi interessa solamente la parte di come installare la mod e come risolvere nel caso dovesse avere dei problemi, comunque ci sono i capitoli. Adesso noi ci andiamo a vedere brevemente il trailer di questa mod che tanto dura un minuto e mezzo e poi andiamo a vedere come si installa. Welcome to the Nexus, Lost Soul. The Archthrones require a great many souls so that the linking of the fire may commence it. Be aware. Even in death does the high lord rule in seance with the necromancer, Obidiya. Do not disturb them if you can help it. If we meet again, pray for mercy. We shall dance when we shall die. We shall dance when we shall die. Dark Souls Archthrones, Demo Now Available. Perché loro parlano di demo, ma penso perché semplicemente potrebbero esserci dei problemi con il gioco. Comunque, ragazzi, ovviamente questa è la base, cioè gira con Dark Souls 3, quindi il motore grafico è quello, per quanto possano aver fatto dei miglioramenti dal punto di vista tecnico. Ma il motore grafico è quello, quindi vediamo come si installa. Per installare la mod semplicemente andiamo su Nexus Mod, troviamo la mod corrispondente e la scarichiamo. Per prima cosa dobbiamo assicurarci di avere un'installazione pulita del gioco con entrambi i DLC. Ashes of Ariandel e The Ring and Seed devono essere entrambi spuntati. Possiamo fare proprietà su Dark Souls 3, andare su file installati e verificare l'integrità del gioco per avere appunto la certezza di avere i file originali integri. Tutti i file convalidati, quindi passiamo ad installare la mod. Per prima cosa dobbiamo estrarre i file nella cartella Arctrons che abbiamo scaricato. E dobbiamo copiare questi file all'interno della cartella di gioco, che si troverà sul disco che avete installato. Steam Library, Steam Apps, Common, Dark Souls 3, Game. E qui copiamo i file. In questo momento la mod funziona solamente in lingua inglese, quindi dovremmo cambiare la lingua dalle proprietà di Steam e comunque più lingue saranno aggiunte successivamente, ma in questo momento dobbiamo per forza di cose cambiare la lingua e semplicemente avviamo il gioco. In questo momento il file .dll sta scaricando i file necessari. C'era scritto che nel caso in cui i server dovessero essere sovraccaricati, bisognerà attendere che siano liberi. Two hours later Ok, benissimo! Sono... e io che pensavo ma porca di quella p***a. Se l'installazione automatica non dovesse andare a buon fine, si può sempre scaricare i file manualmente. Una volta scaricato andiamo ovviamente ad estrarre la cartella, l'apriamo e troveremo all'interno questi tre file. Quello che dovremmo fare è copiare questi tre file, sempre all'interno della cartella di gioco, ma all'interno della cartella Arch Thrones che se ce l'ha creata l'installazione precedente, bene, altrimenti dovremmo crearla noi manualmente. Mi raccomando, la cartella si deve chiamare Arch Thrones, in scritto, tutto minuscolo in questa maniera. All'interno di questa cartella noi andiamo a copiare questi file e una volta finito avvieremo semplicemente il gioco. Come potete vedere, adesso siamo senza problemi utilizzando la mod. Ora, noi non possiamo loggarci, probabilmente perché i server sono down, forse per la mole di gente che si sta... che cerca di connettersi. Comunque i server ci servono per poter giocare ovviamente online, ma in questo momento è disponibile solamente la modalità co-op, quindi la possibilità di poter giocare con degli amici. La mod utilizza dei server privati, in modo tale da non venire bannati, non c'è proprio alcun rischio di essere bannati da Front Software. Ma noi possiamo comunque giocare, affrontare la mod in modalità offline. Ed eccoci qui all'interno. della mod. Come potete vedere in alto a sinistra la versione dell'applicazione è la 1.15.2. La mod è perfettamente compatibile con questa versione del gioco, ma se dovesse incontrare diversi crash ripetuti, una soluzione potrebbe essere quella di portare il gioco alla versione 1.15. Per farlo bisognerà andare su questo link qui e scaricare la patch 1.15. Ecco, questo è il file scaricato che praticamente è l'exe di Dark Souls. E come possiamo vedere con proprietà, se andiamo su dettagli, vediamo che la versione del file è la versione 1.15. Quindi quello che dobbiamo fare è copiare il file direttamente nella directory del gioco e andare a sostituire l'exe che io vi consiglio di copiare da un'altra parte come backup. Quindi copiamo e sostituiamo il file. Avviando il gioco dovremmo averlo alla versione 1.15. Ecco, come possiamo vedere adesso il gioco è alla versione 1.15. Se dovesse avere comunque dei problemi, c'è sempre il server Discord in cui poter segnalare gli errori e comunque c'è anche il forum sul Nexus Mod. Vi ricordo che questa è una versione preliminare di questa mod, portate un po' di pazienza. Per quelli che utilizzano il gioco su Steam Deck o con Linux, vi consigliano di inserire questo comando all'interno della console, quindi sempre Dark Souls 3, proprietà, opzioni di avvio e sempre lì silezionare l'opzione di compatibilità Proton 7.0-6. Questo è tutto quello che c'è da sapere sulla mod in questo momento. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.